Dopo il tonfo casalingo con la Re Canatese, il San Nicolò torna in corsa per il quinto posto. L'undici di Massimo Epifani passa da autorità 1 a 3 sul campo di Scoppito e approfitta del passo falso della Re Canatese. A guidare il San Nicolò, Andrea Bucchi, autore di una doppietta. Per la Miternina, apparsa oggi rassegnata, un'altra sconfitta che spalanca sempre di più le porte della retrocessione in eccellenza. Senza Torbidone e Schipel, Di Felice si affida a Teriaca e Gizzi in attacco. Nel San Nicolò partono dalla panchina Casolla, Chiacchiarelli e Moretti. La compagine Teramana inizia con il giusto piglio e colleziona una serie di palle-gol che esaltano le qualità del portiere di casa Di Vincenzo, che inizia il suo lavoro dopo il quarto d'ora su Merlonghi, sugli sviluppi di un successivo corner Di Vincenzo e superlativo sulla battuta di Bucchi. Ventiquattresimo, azione di rimessa San Nicolese, Mozzoni ispira Merlonghi, ma ancora una volta Di Vincenzo è attento. L'estremo Scoppitano è ancora più bravo, poco dopo la mezz'ora, sempre sul tentativo di Merlonghi, ben servito da De Giglio. Il gol arriva al trentasesimo ed è contestato dalla Miterina perché è originato da un contatto dubbio tra Rapino e Teriaca. L'azione prosegue e Massetti va al traversone, Merlonghi è in ritardo mentre Bucchi riesce a concludere e a fare centro con l'ausilio di alcune carambole su Palo e Di Vincenzo. 1-0 San Nicolò. La Miterina però ha un guizzo d'orgoglio e prima dell'intervallo ciuffa la parità con Giordano che al quarantunesimo entra in campo al posto di D'Alessandris e al quarantatresimo trova la via della rete con una finalizzazione sulla quale l'estremo ospite calore non è perfetto. Nella ripresa la squadra di Epifani si rimette sotto a caccia del nuovo vantaggio. Le notizie della rimonta della Samb caricano il San Nicolò che al tredicesimo centra l'1-2, gran merito alla discesa sulla destra di De Giglio che serve al centro Bucchi che con una botta non lascia scampo a Di Vincenzo. Per l'ex Terramano è il gol numero 7 in campionato. E al ventesimo il San Nicolò chiude i conti evitando ulteriori sorprese nel finale. Stavolta Bucchi indossa i panni dell'assistman per Merlonghi che fila via in velocità e batte Di Vincenzo. 1-3 e soddisfazione personale per l'attaccante che arriva in doppia cifra di realizzazioni. La partita di fatto finisce qui. Per la Miterina nel dopogara non c'è voglia di parlare. Il San Nicolò torna a vincere in trasferta dopo tre mesi. La rincorsa verso i playoff riprende. Sì, è una vittoria importante. Siamo venuti qua per cercare di vincere a tutti i costi perché ci credevamo ancora. Grida vendetta ancora quel gol preso al novantunesimo lunedì. Però la squadra è venuta qui dopo un primo tempo dove abbiamo sofferto un pochettino. Però poi il secondo tempo abbiamo legittimato il risultato giocando anche bene. E speriamo che ci possiamo giocare questo posto, questo quinto posto fino all'ultima giornata. Sì, la squadra ha fatto bene. Nonostante incontrare una squadra che poteva sembrare che aveva mollato. Non è stato così e lo sapevo. Devo fare i complimenti a loro perché hanno lottato fino all'ultimo. Però noi oggi dobbiamo vincere. L'abbiamo fatto con grande carattere, con grande voglia di cercare di arrivare a un obiettivo che sembra inarrivabile. Ma noi ci crediamo e ci lotteremo fino alla fine.